Ciao a tutti, è arrivato il momento per andare a scoprire chi è il nostro vincitore di giveaway. Allora, copio il link, vado su YouTube random, ok, aggiungiamo il link del video. Ok, filtrando ci sono 53 commenti e adesso andiamo a guardare chi è il nostro vincitore. Ecco qua il nostro vincitore, prego questa persona di mandarmi un messaggio in privato su Instagram per lasciarmi tutti i dati, per spedire il pacco. Grazie a tutti per la vostra attenzione, mi fa molto piacere che avete partecipato in tanti. Ci vediamo con i prossimi giveaway, regali e concorsi. Buona giornata a tutti, un bacio e un abbraccio. Grazie.